Una giornata di duro lavoro, quella vissuta dalla Juventus a Vinovo, durante la quale Antonio Conte non ha tralasciato nessun aspetto della preparazione. Il tecnico ha infatti curato la tattica durante la seduta mattutina, centrando l'attenzione soprattutto sui movimenti dei difensori e dei centrocampisti centrali, mentre al pomeriggio ha fatto svolgere un allenamento esclusivamente atletico. La squadra prima ha lavorato sulla forza in palestra, quindi è scesa in campo per affrontare una serie di scatti e di cambi di direzioni ad alta intensità. Domani si torna a un solo allenamento giornaliero con l'inizio della seduta in programma alle 15. Il 27 ottobre è stato inaugurato il nuovo centro commerciale Nordiconad nei pressi dello Juventus Stadium. Oggi è stata la volta del nuovo Juventus Store, che con i suoi 550 metri quadri la farà da padrone nella nuova casa della Juventus. In particolare questo sarà il più grande negozio di calcio dedicato a una squadra in Italia. Una festa particolare dove Conte e una folta rappresentanza della squadra sono stati presenti all'inaugurazione. Prima, un testimonio ad eccezione come Pavel Nedved ha aperto ufficialmente i tour guidati che da giovedì 3 novembre proporranno ai tifosi tutti i segreti della nuova casa bianconera. La primavera della Juventus torna da Napoli a mani vuote con tanto rammarico, ma anche con la consapevolezza di potersi giocare l'accesso nei quarti di finale di Coppa Italia nella gara di ritorno in programma il prossimo 23 novembre a Vinovo. Il rammarico nasce da una sconfitta per 3 a 2, maturata nella ripresa, dopo essere stati per due volte in vantaggio. Nella gara di andata delle ottave di finale contro il Napoli sono i bianconieri a passare per primi, al ventesimo del primo tempo con un'azione personale di Ranini, ma dura poco perché il pareggio dei partonopei arriva due minuti dopo con scienzo. Il gol subito così in fretta non scoraggia la Juventus che insiste e in avvio di secondo tempo passa ancora con un velenoso diagonale di Ruggero. Sembra fatta, invece il Napoli alza la testa e riesce a rimontare grazie agli innesti dalla panchina operati dal tecnico partenopeo Dodo Sormani, vecchia conoscenza bianconera. Prima Signorelli e poi Insigne ribaltano il risultato lasciando i ragazzi di Baroni la mora in bocca, ma anche la possibilità di centrare la qualificazione nel ritorno in casa. Il 2 novembre 1994 per la Juve la sfida in Coppa UEFA. Protagonista della prima parte di questa competizione è Fabrizio Ravanelli. Pena bianca trascina la Juventus con il suo gol. Dopo la storica cinquina al CSKA Sofia nel primo turno, l'attaccante si conferma letale anche contro i portoghesi del Maritimo. Nel doppio confronto valido per i sedicesimi di finale, Ravanelli decide entrambe le gare. Dopo la rete del successo per 1-0 in terra lusitana, il bomber ne firma due a ritorno a delle Alpi. Il match si gioca proprio il 2 novembre e finisce 2-1. Al termine della cavalcata europea dei bianconeri, finita nella sfortunata finale con il Parma, Pena bianca chiuderà con un bottino di 9 gol.